L'onore e l'onere di promuovere, di organizzare questo raduno. Certamente siamo in piazza, ma il tipo di musica esige quantomeno, meno confusione. E allora, adesso c'è il secondo complesso bandistico, quello di Palma di Montechiaro, intitolato Andrea Loggia. E' composto da 40 componenti e maestro, e facciamo un applauso, Rosario Losardo. Diciamo un applauso e allora, scenograficamente vi do i titoli e gli autori che ci saranno proposti. Alpa di Gloria, del maestro Ceccio e una marcia sinfonica. Avremo poi il trovatore, una fantasia del grande Giuseppe Verdi. Poi c'è un titolo che è tedesco, quindi chiedovenia per la pronuncia. Con N. Bibkel mit Nack italien. Ci sarà poi un brano Frank Sinatra in concerto. E dovrebbero concludere con il Walzer di Verdi. E' un Walzer brillante tratto dal film Il Gatto Pardo, che a sua volta questa pellicola cinematografica diretta da Lupino Visconti, è un famoso libro di Giuseppe Tommasi di Lamberusa. E' loro che provengono da Palma di Montechiaro, altro non potevano fare che omaggiare questo grande scrittore. E allora, se siamo pronti, noi incominciamo con i brani che abbiamo lencati. Abbiamo adesso, protagonisti a solo di palco, la banda di Palma di Montechiaro, Andrea Loggia. Grazie. 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 Grazie.